L'azione dell'anno scolastica accademica dell'Università di Cagliari si svolgerà giovedì, avrà un tema particolare, immunità da cancro al Covid-19, sogni e sfide. Eleonora Bullegas. Numeri in crescita all'Università di Cagliari, nell'anno accademico 2020-2021, le iscrizioni al primo anno per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico sono state 6.012 contro le 5.734 dell'anno precedente e le 5.334 di sei anni fa. Trend positivo anche per le immatricolazioni che si sono attestate a 4.374 contro le 4.244 dell'anno precedente e le 3.984 dell'anno 2015-2016. I suoi iscritti al primo anno delle lauree magistrali sono passati dai 1.155 dell'anno accademico 2015-2016 ai 1.460 dell'attuale anno accademico, mentre erano 1.419 lo scorso anno. Sono alcuni dei numeri anticipati oggi dalla lettrice uscente Maria del Zompo, la prima donna ad essere stata eletta con questa carica nei 400 anni di storia dell'Ateneo Cagliaritano e che giovedì inaugurerà il nuovo anno accademico, l'ultimo del suo mandato. La pandemia ha inevitabilmente inciso sulla didattica. A marzo dell'anno scorso anno, in appena 20 giorni, il 100% dei corsi è stato attivato online su tre piattaforme. Nessuno stop per le lauree. Dal 23 marzo 2020 al 30 settembre scorso sono stati 1.664 gli studenti che si sono laureati a distanza. Abbiamo messo al centro gli studenti, abbiamo messo al centro la qualità della didattica, della ricerca, abbiamo messo al centro anche l'attenzione verso le imprese, verso il territorio. È stato durissimo, però siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché queste cose non si fanno da soli. Certo, è importante avere l'idea, è importante lanciare, però ci deve essere la condivisione. Il nostro imperativo era che nessuno deve rimanere indietro e nessuno è rimasto indietro. Siamo riusciti a portare avanti tutti i corsi di studio. Mi fa piacere che molti ragazzi e ragazze fuori corso abbiano ritrovato la voglia di studiare. Lasciamo in enedità una mentalità che è quella di voler fare sempre meglio, un pochino ma continuamente. Questo è un metodo che dobbiamo fare nostro in tutte le cose che facciamo e l'Ateneo Cagliaritano lo ha fatto proprio e perciò non potrà che migliorare. L'importante sarà quello di continuare sulla responsabilità sociale dell'Ateneo, per cui la lotta alle discriminazioni, alle disparità, la lotta a tutto quello che impedisce di far arrivare la cultura il più diffusa possibile.